Musica Proseguo il corso di cultura economica dal titolo Voglia di più Europa, quale? Organizzato dall'IRSE di Pordenone presso il Centro Culturale Zanussi. La docente di Ca' Foscari, Chiara Mio, ha parlato di importanza dell'innovazione presentando Stefania Quaini, amministratore delegato di Impact Hub Trieste, SRL che propone il co-working in rete con altre 40 città di tutto il mondo. Ha aperto i battenti ad ottobre 2013 e ad oggi ospita nella sua sede circa 50 professionisti che lavorano e collaborano insieme. Impact Hub Trieste è in primis la creazione di una rete, una rete di professionisti a diversi momenti del loro percorso professionale e imprenditoriale che decidono di mettere a frutto le loro competenze o il loro progetto imprenditoriale all'interno di una rete, una rete locale, Impact Hub Trieste, connessa poi al resto della rete Impact Hub in Italia dove ce ne sono ad oggi 7 di Impact Hub, oltre a Trieste c'è a Milano, a Rovereto, a Firenze, Roma, Bari e Siracusa e l'Impact Hub, la rete globale. Una parte della mission è proprio quella dell'associazione mondiale degli Hub è quella di portare avanti questa rete e i valori che la rete condivide a livello globale. Quali alcuni casi di successo che hanno sede in Impact Hub Trieste? Il successo significa anche passare dall'idea al piano d'azione, al progetto imprenditoriale presentabile a potenziali investitori pronto per essere messo sul mercato. Abbiamo nominato dal tecnologia di strutture tensocapillari, la struttura a coccinella nell'ambito del design industriale, ad app che possono permettere di eliminare le code agli sportelli nel pagamento di bollette e multe, ad uno invece riconnesso le culture del territorio, per cui una comprensione delle tempistiche di quei prodotti che ad oggi chiamiamo chilometro zero, per comprendere chi sono i produttori. Per cui il progetto specifico è riconnessione tra città e contesto rurale e agricolo. Quali le differenze tra l'Hub e gli incubatori di idea a cui siamo abituati oggi? Gli incubatori tradizionali sono legati all'idea tradizionale di impresa che ha bisogno di muri, ha bisogno di scrivania, ha bisogno di un posto fisico, ma il processo è ancora tutto molto interno, quindi nell'incubatore tradizionale c'è un grande spazio diviso in piccoli uffici, ciascuno ne occupa uno e ha la propria vita. Negli hub invece c'è la possibilità di avere contaminazioni da quello della scrivania a fianco, o che occuperà la scrivania un'ora dopo di te, di parlarne nei momenti di condivisione, a pranzo, a cena, di vedersi demolita l'idea o di vederla rafforzata da una fertilizzazione che arriva da uno vicino, e quindi è proprio una progettazione sempre molto condivisa. È una modalità veramente aperta, globale, di creare un'impresa, o perlomeno provarci, in uno spazio fisico. Quale nuova cultura del lavoro si crea? Beh, tradizionalmente il linguaggio corrente dice ti cerchi un lavoro, devi trovare un lavoro. Beh, l'attualità ma soprattutto il futuro ci indicano che il lavoro non si cerca, non si trova, il lavoro si deve creare. Creare perché se uno immagina di trovare un posto di lavoro non lo troverà più. Le imprese grandi stanno diminuendo l'occupazione e se vogliamo lavorare in un'impresa nuova è molto più facile se aiutiamo o contribuiamo a creare quest'impresa che crea un prodotto e quindi crea un lavoro. Ed questa è una rivoluzione culturale importante perché noi siamo abituati a dire hai un lavoro a tempo indeterminato, hai trovato un lavoro. Questa cosa non c'è più. Il lavoro va creato, reinventato, reinnervato quotidianamente giorno per giorno. E su questo serve anche un altro cambiamento culturale. Per inventare, per avere successo bisogna accettare che alcune volte la cosa va bene, altre volte la cosa va male. Ma quando le cose vanno male c'è un insuccesso. L'insuccesso è la conoscenza e la sperimentazione di un limite e questa conoscenza dà la possibilità di imparare e fare meglio la volta seguente. Quindi anche se in questi hub partono in 100 e poi hanno successo in 5, in 6, in 10, gli altri 90 che non ce le hanno fatta sono ragazzi e ragazze che hanno imparato, che possono impegnarsi per un progetto e hanno comunque qualche cosa in più di coloro che non ci hanno provato. E quindi c'è un valore aggiunto in chiave formativa che è assolutamente importantissimo.